Sì, io ringrazio Marco, io parto proprio dal suo ultimo punto, di fronte all'immobilismo della regione, delle istituzioni, cosa possiamo fare noi. Io posso suggerirvi anche, raccontarvi alcune pratiche molto semplici che abbiamo fatto in questi ultimi due anni. Allora, innanzitutto dobbiamo fare pressione, pressione più forte possibile nelle piazze, dunque ritornare nelle piazze e manifestare. Dobbiamo poi non lasciare liberi i parlamenti anche locali, cioè quando ci sono i consigli, le commissioni ambienti, bisogna essere presenti per non fare in modo che i politici si razzirano tra di loro. Dobbiamo fare informazione, noi abbiamo fatto ad esempio a Montecchio, io vivo proprio nell'epicentro del problema. Ehi là, Francesco, ho parlato di epicentro, Francesco non abita molto distante dall'epicentro. In realtà abito a Montecchio a solo i due chilometri della Miteni e siamo fortunati di essere nella zona arancione solamente perché i nostri pozzi pescano più in basso. Però abbiamo fatto un foglio informativo da consegnare alla popolazione dove noi raccoglievamo un po' ciò che dicevano gli scienziati, ciò che non dicevano i giornali e li abbiamo consegnati materialmente alle persone. Abbiamo fatto anche delle azioni molto creative, abbiamo fatto ad esempio la più importante, fu un'intuizione fatta l'anno scorso, la marcia dei fiori con la P davanti. Dovevamo in qualche modo innescare nell'immaginario dei bambini e delle mamme qualcosa che passasse in modo veloce. Allora i fiori con la P davanti, quell'elemento inquinante che anche i bambini possono capire. E fu già molto partecipata nel primo anno. E mettiamo già in prima fila le mamme, perché le mamme sono veramente coloro che hanno la forza anche simbolica per portare avanti il movimento in questo periodo. Poi abbiamo fatto delle conferenze molto importanti, chiamiamo a febbraio Greenpeace perché avevamo bisogno, come ha già fatto Legambiente, di una istituzione super partners che mettesse un po' alle strette le istituzioni che non stanno facendo il loro lavoro. Per annunciare questa conferenza abbiamo fatto ad esempio, abbiamo partecipato in modo creativo a un carnevale, il carnevale del nostro paese, facendo una specie di carro, di rappresentazione con tutti gli elementi inquinanti di Fassa che viaggiavano all'interno del carnevale. fu una bomba per gli abitanti dormienti del paese di Montecchio, perché ci sono tantissime presenze in questo carnevale. Poi cos'altro abbiamo fatto? Quando abbiamo visto di essere preso in giro in modo forte, ad esempio dall'amministrazione, dal delegato di Miteni, che è un ciarlattano, un giorno lui indisse, per contrastare la conferenza internazionale di Venezia e dei medici, la lezione magistralis di un certo professore che con il Fassa aveva poco a che fare, invitando tutta Confindustria e tutti i sindaci dei paesi contaminati. Noi abbiamo fatto un sit-in fortissimo davanti, abbiamo fatto in modo di creare il disgaggio davanti a questa loro elezione magistrale ed è saltato, non c'era nessuno, fu una botta enorme contro di loro. Adesso cosa faremo? Si possono fare altre azioni creative e anche azioni giuridiche. Abbiamo fatto un sit-in sitcom, l'abbiamo chiamato così per non prendere querele di fronte al tribunale di Vicenza sabato scorso, perché di fronte a questo comunicato, questa relazione dei carabinieri che è davvero gravissima. Adesso loro hanno letto, parlavo prima con Danilo, la reazione conclusiva che sono circa una trentina di pagine. Oggi a me i sindacati mi hanno consegnato anche altre persone il documento finale, sono quasi 200 pagine di reazione. Le conclusioni sono disastrose, gravissime, sono colti in flagranza di reato e continuano ad inquinare. Dunque ora dobbiamo passare anche ad azioni non solo simboliche ma anche ad azioni giuridiche. Pensavamo ad esempio nella reazione dei carabinieri che io ho letto oggi, si legge come la fabbrica aveva il dovere di intervenire solamente anche per rispettare il principio di precauzione. Perché qua si legge in un punto sottolineato dei carabinieri dove loro trovano un inquinamento nel 2009 di 6400 nanogrammi litro e lo sottolineo non solo in grassetto ma anche con la sottolineatura. E la fabbrica aveva il dovere di avvertire le istituzioni e di bloccare, di iniziare subito la bonifica. Loro hanno inquinato lo stesso e come è stato sottolineato da noi ora non si tratta più di reato colposo, si tratta di reato doloso. Loro erano consapevoli, sapevano di ciò che stavano per fare e adesso noi procederemo in modo penale contro a coloro che non hanno anche applicato le leggi e possono essere processati anche per non aver applicato il principio di precauzione. Faremo queste e tante altre cose. L'importante è che tutti noi cominciamo a scendere nelle piazze, a partecipare alle cose che facciamo. Domenica prossima ad esempio Danilo ha parlato di questo nuovo comitato che sta nascendo a Padova. Io mi trovo a essere un po' in mezzo a tutti questi comitati, a connettere le varie voci. Considerate poi la cosa straordinaria. Abbiamo messo insieme forze veramente distanti ma tutte impegnate nella civiltà del luogo. Addirittura anche i sindacati hanno lavorato con i centri sociali, hanno presenziato, nessuno di due ha tirato dietro la loro presenza di fronte a un dramma così grande. Considerate che all'interno dell'industria il dramma è ancora più forte perché ora finalmente si stanno svegliando gli operai che magari qualcuno di loro anche poteva denunciare quello che stava accadendo. Si stanno accorgendo di quanto menati per il culo, usiamo questo termine perché è così, sono stati per tanti anni. Io non ho altro da aggiungere e vi invito solamente a partecipare nelle piazze fisicamente alle cose che faremo.